Colpo grosso della matricola urtese che batte l'Ostasia dimostrando di essere lassù non per caso. Ospiti sciuponi e sfortunati al quinto con la traversa di Scippa. Al diciassettesimo il gol del vantaggio locale. Insigne vince un rimpallo sulla fascia sinistra e crossa al centro. La sfera viene ribattuta dalla retroguardia ospite e arriva Sticco che insacca in aria 1-0. In tutto il primo tempo Ostasia è in avanti, pericolosa su calci da fermo con Scippa e Gioielli, sempre insidiosi sotto rete. Nella ripresa ancora Stasia è pericolosa, Gioielli serve Scippa su punizione, la sfera termina a lato. Il sessantasesimo l'episodio che cambia il match, espulsione di De Falco dopo un impatto con Insigne. Sulla susseguenta punizione dello stesso Insigne, Riccardo si stende sulla sinistra e deve in angolo. Al settantaquattresimo palla gol per gli ospiti. Scippa di testa anticipa Giallaurito, la palla arriva a Villino che a porta vuota si fa anticipare da D'Angelo che salva in estremis. Ortese ha raddoppio al settantasesimo, Russo protegge palla e serve sulla sinistra Sticco che taglia in due la difesa con un preciso raso terra. Tifosi in estasi, gol della bandiera dall'altra parte per l'Ostasia all'ottantatresimo, Gioielli sulla sinistra con un potente tiro tra Figgio e Giallaurito all'incrocio. In contropiede, gara chiusa all'ottantacinquesimo, Insigne smarca Pellino che sottoporta chiude l'incontro. L'Ostasia non ne ha più e del prete sui ragazzi si godono un altro strepitoso successo.